Maria Cristina Ciaffi, lo sport si unisce alla cultura e alla bellezza delle terme taurine con questo evento che ci sarà mercoledì prossimo? Sì, in effetti un'iniziativa del genere non era stata mai organizzata alle terme taurine, nasce proprio dall'idea di coniugare la cultura al benessere fisico. Si sente spesso dire in questo periodo in cui stiamo tornando alla normalità che si può ripartire dalla cultura, si deve ripartire dalla cultura. Io penso che però abbiamo bisogno di un'interpretazione diversa, un nuovo pensiero che non sia, la cultura non deve essere soltanto una tutela del patrimonio ma deve consentire la più ampia conoscenza e la massima fruizione. Credo che sarà questa a fare la differenza, cioè le persone che avranno la possibilità di vivere un'esperienza culturale saranno poi in grado di vedere non soltanto i beni culturali, le opere d'arte o i monumenti con altri occhi ma qualsiasi altra cosa. E noi come Prologo vogliamo fare proprio questo, cioè attraverso la cultura affrontare anche dei temi diversi come appunto quello di questa iniziativa, cioè la salute e il benessere fisico. Benessere della terme taurine, siamo con Adriana Calò e Elania Costa che sono promotrici di questa iniziativa, ci spiegate cosa accadrà? Staremo insieme per due ore e ci occuperemo del nostro benessere e faremo io una lezione di yoga, Ilaria una lezione di pilates in questa bellissima cornice che sono le nostre terme taurine. Com'è nata questa idea? È nata grazie alla collaborazione con la Prologo e con l'idea che molte persone che sono del territorio non conoscono questa bellissima struttura e abbiamo pensato di creare questo connubio tra arte, cultura e benessere. Come possono fare le persone per partecipare? Basta mandare un sms al 349 57 90 1 6 3 oppure... 3 2 8 8 3 2 3 9 9 6 Matteo Comelli è anche il sostegno del comune per quanto riguarda questa iniziativa, quindi nella bellezza delle terme taurine è importante lo sport assieme alla cultura. Sì assolutamente, questo è un esempio lampante di come sport e cultura siano molto legati tra di loro. Io ringrazio Maria Cristina e la Prologo per aver creato questa iniziativa in un contesto meraviglioso come quello delle terme taurine. Ringrazio le qui presenti associazioni che aderiranno a questa iniziativa perché hanno sempre portato avanti la cultura dello sport e della salute fisica e mentale. Noi siamo a loro fianco e ci goderemo questa bellissima giornata di sport, salute e cultura in un contesto meraviglioso che la nostra città ha.